e ciao a tutti bentornati alla run veterana con flak su borderlands 3 è successo di leggendaria peccato hello dopo ne parliamo di questo scudo prima di continuare iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run guide e tutorial su borderlands 3 è successo di nuovo un casino raga lo scorso episodio è venuto registrato da schifo di nuovo l'altra volta è saltato il video questa volta è saltato l'audio e cosa abbiamo fatto nello scorso episodio non abbiamo fatto tanto onestamente abbiamo fatto quest'area della principale dando praticamente a eliminare questi nemici e fine non abbiamo fatto molto per fortuna forse abbiamo fatto anche un'altra secondaria che ci mancava non ricordo ma ripeto praticamente non abbiamo fatto molto non vi siete persi molto una cosa che vi siete persi se abbiamo fatto una secondaria era la posizione di una delle casse rosse che c'erano rimaste che era all'interno di una secondaria all'interno qui di questo pezzettino di mappa quello dove dovete disegnare sul muro quindi facile avevo disegnato anche una r ci ho messo così tanto e niente e insomma più o meno è tutto qua le adesso abbiamo tutte le casse rosse vedete ci manca giusto una sfida dell'equipaggio e ci manca una radio crimson a quanto pare che non so dove sia quindi andremo a completare la mappa magari è in quest'area qua se non sarà lì beh è un problema detto ciò andiamo raga soppirla io la radio crimson è letteralmente qui vicino a il rifugio di typhoon letteralmente ci siamo passati di fianco non so quante volte non l'ho vista mamma mia è pollo che pollo raga che pollo mamma mia una disgrazia guardate è lì non sulla foglia lì è niente cosa devo fare abbracadabra sì perfetto ci abbiamo fatto santa pazienza raga santa pazienza ok ci manca solo un clappi che è letteralmente qua giù in quest'area qua e poi abbiamo fatto allora moxi ci ha mandato giusto guardiamo la posta guardiamo la posta che secondo me abbiamo un botto di roba da guardare barra buttare abbiamo fatto tutte le radio mi sa ci ha dato il vibrapulse interessante perché 72 a forse mi sarà arrivato mentre stavo a registrare dei video scatter gun per 9 schifo mascher questa robaccia un altro mascher wow non me ne frega anche se credo sia più forte della maggie sapete potrebbe essere più forte della maggie che abbiamo 151 per 6 sono 900 e lui è un 2000 però però signorina maggie però ha trovato il suo concorrente signorina maggie ok abbiamo qualcos'altro nella posta ah sto coso dell'homo terroppo ancora facciandolo va bene un'altra vibrapulse ok moxi ancora un'altra vibrapulse eh ci ha dato una vibrapulse per ogni singola torre che abbiamo fatto l'ultimamente domanda sono un po' confuso raga ok qua c'è tyrin perché ci ha dato tre vibrapulse vabbè non voglio saperlo allora tempo di andare a prendere il veicolo e andare a fare il percorso alternativo non ricordo dove sia devo dare un'occhiata non volevo salire sulla torretta allora percorso alternativo quale che era ah ok devo andare a eliminar tron ok come non detto andiamo andiamo raga andiamo dai coso sta buono su tanto tu colpi a dl walker sei già finito su via uff uff il danno di questa pistola raga l'unica cosa è che c'ha quattro colpi a bassa di caricatore oh mamma mia mamma mia mamma ma oddio il danno scusate ma fammi guardare la ricarica ah peccato non me la vedo l'animazione mi sa volevo vedere perché mi sembrava che ci avesse tipo esattamente i quattro proiettili nel caricatore quando li mette dentro però peccato aiuto che vuoi fa ma che vuoi fa ma dico io ma sta letteralmente one shotando sto masher ma raga non è neanche un'arma leggendaria ma ok i guess va bene si trotterello trottolone dai su state buono che c'è un claptrop da andare a prendere prima eccolo mangiato da una pianta carnivora un claptrop d'esplorazione non se l'è mangiata una pianta santa pazienza ma va a chagare claptrop allora come one shotiamo quel coso bello come il mongol fa 3000 danni e le walker ne fa 15.000 si quanto leva questa bello senza animazione non mi ha fatto il balletto non mi ha fatto niente ecco tre colpi di al walker tutto molto sensato è stato un bel combattimento mi sono divertito molto bene molto forte mongol dai bene va buono qua non ci stavano cassa in niente non mi pare che lo fosse soltanto una roba per tornare indietro nel caso qualcuno sia pigro sì perfetto ok non capisco neanche che abbia senza perché la gente si può semplicemente tippare forse perché vogliono se la gente non sa come tippare almeno può tornare indietro piedi un po' come tutti gli altri boss sì sicuramente sarà per quello allora dai eccoci siamo arrivati alle Tardruins quanti mercati neri che sono dovuto andare a cattare qua e quanta roba c'è in sta mappa soprattutto ce n'è veramente tanta va bene dai andiamo con ordine e andremo a esplorare prima di tutto facciamo un po' di pulizia vado ah lo scudo giusto lo scudo che ho preso prima dov'è bingon blaster non è che sia quel gran che è risposto all'impaller però cioè ormai l'impaller è inutile quindi almeno questo ci dà un pochino più di cose utili finalmente ops finalmente abbiamo uno scudo non qualcosa che scoppia il primo colpo c'è solo il doppio della capacità e mi aspettava un po' di più fa un peccato ma vabbè non ho mai capita questo adesso vedremo con la trama ma la nave della maliwan che attacca quello scudo lì perché non hanno mica il controllo della cripta la maliwan dunque se avete abbastanza velocità di movimento potete schippare questo segmento questo non è quello che volevo fare ma potete da qua saltare e riuscire ad atterrare laggiù se avete abbastanza velocità di movimento giusto nel caso siate giocando zain o roba simile ricordatevi che la snowdrift non vi dà momento momentum allora qua in mezzo dovrebbe starci un clappi se non ricordo male si qua perfetto non mi ricordo che c'era laggiù dovrebbe tornare un colpo quando ho cripto ah no solo verso un nemico non quando ho cripto ok ecco perché non mi si riempiva il caricatore ah eccolo il clappi perché è in fiamme ah ecco perché è bollente perfetto che battutaccia clappi mamma mia torniamo alla walker va allora abbiamo quasi fatto livello anche in teoria qualche nemico in mezzo a quest dovremmo esserci allora la prossima cosa che dobbiamo oddio qua ci stanno anche delle quest mi ricordo adesso allora partiamo dalla cassa rossa intanto sono le cose più complicate ma però sti quasi danno xp finalmente strano ma vero strano ma vero danno xp ok allora andiamo da sta parte registrando le secondarie che dobbiamo andare a mi pare di averla anche vista una secondaria se non sono pazzo su vediamo quando faccio la curva se sono pazzo o non pazzo no credo fosse il mio animale prima di continuare iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run guide e tutorial su borderlands 3 io non dovrei essere qui io dovrei aver fatto il giro forse quello era un segmento per tornare indietro oh ok interessante più velocità di movimento interessante interessante a questo punto mi sa che ci sta un log di typhoon qua forse no si e qua tanto ci torniamo dopo per una missione questo me lo ricordo però a sto punto preferisco andare a pigliare cassa rossa eccetera adesso meno me lo scordo meglio è se non fa un bel giro tas and the ruins è una mappa molto lunga e il fatto che dobbiamo anche tornarci dopo senza dei tp in mezzo vabbè allora che c'è qua che c'è qua no wait non dovevo andare qua questo è il pezzo della quest che cavolo di giro sto facendo regà no ero dove ero andato prima che era giusto ma dai ma va va a ecco appunto dove ero andato prima era perfetto dovevo soltanto fare il salto ma che spreco di tempo cioè vabbè ho preso il log per carità però sono un po' tristi uno mi interessava questo vabbè allora ritentiamo vediamo se saremo più fortunati dove ero andato qua era perfetto dovevo soltanto fare il salto ma infatti ma va 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 e poi va ancora eccola là la cassa ma yikes solo per completismo perché fa veramente pena questa era vicina questa ci ha rischiato molto poco mamma mia ok poi che abbiamo mi sto a perdere ah log di typhon ok log di typhon ah ah bella domanda forse qua vediamo mi ricordo che ci sta un log e un'altra roba forse un'antenna vediamo quello è un clappi e va bene non ci sta mica anche un log di typhon mi scusso niente log di typhon io mi ricordavo log qua forse sopra la cassa di typhon e va bene ma il log immagino di dover andare a provare sopra non lo vedo ah eccolo ok avevo cannato completamente come l'ho detto vabbè andiamo su di qua come cavolo si saliva là sopra ah di qua ok sali 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 è un teschiolieno e voilà ecco qua allora la cassa di typhon l'abbiamo già vista e va bene per un bel bel po' adesso abbiamo nemici e cassa rossa a due angoli della mappa lunghissimi quindi direi che possiamo far così e poi vedere che succede andiamo e arrivare fin laggiù aiuto dio quanto è grande sta mappa vabbè la cassa di typhon la prenderemo quando veniamo a farla secondaria immagino non credo abbia quel gran senso prenderla adesso non so neanche se riusciamo a finire la mappa oggi da quanto è grande sicuro farla con una snowdrift renderebbe le cose un po' più facili però andremo a incocciare continuamente con ogni muro non so quanto possa essere una bella come esperienza per voi oh ok oh finalmente un po' di combattimento che non è contro delle bestie io voglio pigliarmi quella torretta posso pigliarmi quella torretta voglio arrubarmela a sparare razzi a voglia animazione rara nel caso non la conosciate oh yes posso posso e lo faccio anche eh non vale però a voglio mi scusi la stavo la stavo distruggendo lei mi mi attacca è illegale ci sta tower defense ma mi scusi ma io boh sti giovani d'oggi oh un po' di gameplay diverso dal solito sembra di giocare a rush at the clan che quando ci sono le sezioni con la torretta non fa il gran danno devo essere sincero i due cani laggiù vabbè l'altro si attacca allora andiamo da un lato andiamo a pigliarci tutto quello che è nostro laggiù occhi e buchi per terra assurdo come la rowan's call sia ancora così forte occhi e buchi di nuovo non è divertente volare giù ah qua c'è un'altra radio un altro vibrapulse moxie teoria dovrebbe essere un reward per aver preso tutte le radio se non ricordo male ma moxie non lo sa e te ne manda cinque comunque allora dobbiamo qua c'era il mercato nero una volta si mi ricordo neanche come si disattiva sto scudo oddio se dobbiamo disattivarlo cosa non è che era una quest a sto punto mi viene il dubbio ah ok là sopra non mi ci fai andare va buono va buono va buono non ho capito mi scusi è un'altra quest questa davvero così sembrerebbe immagino che palle sono arrivato fin qua per niente vabbè andiamo dalla parte opposta abbiamo una cassa rossa e un paio di nemici da prendere a botte un bel viaggetto sta mappa è veramente troppo grande avrebbe dovuto smezzarla in due se non tre addirittura parte tutto sto segmento enorme che ripeto sarebbe già da smezzare ricordatevi che ha anche un interno sta mappa poi c'è tutto l'interno del tempio anche aiuto andiamo di qua e mo andiamo dritti dall'altra parte vediamo che ha un po' di soldini ma si ma si facciamo a botte dopo grande l'arbalesta molto forte durata molto allora quel giro dovremmo avere una taglia di zero e una cassa rossa e che bussa ok perfetto hanno finito di bussare e dovrebbero starci anche due nemici unici lì di fianco che adesso ci andiamo a pigliare ci dovrebbe star silvestro e un altro vediamo un po' se la memoria mi inganna o non mi inganna credo che la memoria mi inganna silvestro e l'altro potrebbero essere il nemico unico aia aia raga la vecchiaia fa male la vecchiaia fa molto male oh un nemico che tanca ah no stava soltanto venendo shieldato come l'ho detto saranno qua giù forse i nemici unici a sto punto si qua giù e dove stanno falli fuori entrambi qua leggendari eh per carità ma dove stanno una aaa 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 eccoli ciao silve mamma mia quanto fa schifo stavista mamma mia lo schifo la disgrazia la vergogna silve calma honk red suite red suite signori un altro come non ci bastasse quello che avevamo già guarda che potremmo piazzarlo il red suite non è male aggiunge un po' di particellari riduce un po' gli fps se uno ha un pc non troppo potente ma non è malaccio niente ci ho sperato in un'altra leggendaria vabbè raga io direi di fermarci qua oggi sinceramente perché siamo a metà mappa circa quindi andare a fare l'altra metà adesso non avrebbe senso ci vediamo nel prossimo episodio dai ciao a tutti ciao a tutti